Avrebbe molestato telefonicamente decine di donne un po' in tutta Italia, con frazioscene e proposte erotiche, nelle sue mire soprattutto cassiere e commesse di negozi scelte a caso su internet. A far scoprire il molestatore seriale è stata proprio una delle sue ultime vittime, un'imprenditrice aretina che ha querelato l'uomo e che, al termine delle indagini, è stato denunciato per stalking. Tutto era iniziato nel dicembre 2019, quando la donna, titolare di un negozio in Casentino, aveva cominciato a ricevere al telefono fisso diverse chiamate a sfondo sessuale. L'imprenditrice, dopo mesi in costante stato di tensione e paura, al punto che aveva cambiato abitudini di vita, percorsi giornalieri e luoghi frequentati abitualmente, si era rivolta ai carabinieri che avevano raccolto la denuncia e avviato le indagini per identificare il maniaco e capire il legame che potesse aver avuto con la vittima. In breve tempo i militari sono riusciti a risalire ad un quarantenne italiano, operaio, residente in Toscana, pluripregiudicato per reati specifici. L'uomo, infatti, nel corso degli anni era già stato condannato più volte per molestie a carattere sessuale, condotte sempre tramite il telefono. Secondo quanto ricostruito dai militari, il quarantenne ricercava le sue vittime su un noto sito di e-commerce, utilizzato anche per proposte lavorative. Si proponeva come datore di lavoro, stabiliva un contatto telefonico che però ben presto sfociava in turpiloqui e proposte sessuali. Stessa modalità utilizzata anche con la vittima retina, ma nel suo caso le semplici molestie si erano tramutate in una vera e propria perseguzione, tanto che i carabinieri di Bibiena hanno proceduto con il cosiddetto codice rosso e denunciato l'uomo per stalking. Sono ancora in corso, infine, le indagini dei militari per identificare ulteriori vittime e comprendere chi tra loro si è intenzionata a sporgere denuncia. Non risulta comunque che il quarantenne abbia effettivamente e fisicamente incontrato le donne molestate e che nessuna sia rimasta vittima di ulteriore violenza, ovviamente a parte quella verbale, nel corso delle telefonate.